Vivere intensamente il Reale, e questo è il titolo del progetto che l'Associazione Pesarese Centro Culturale Città Ideale promuove per celebrare il centenario della nascita di Don Luigi Giussani, ripercorrendo e analizzando l'opera del teologo, docente, educatore e sacerdote fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione attraverso una tre giorni che si terrà fra il 4 e il 6 novembre, Fra Teatro Sperimentale e Hotel Baia Flaminia. Per approfondire questo tema abbiamo pensato di invitare delle personalità che sono veramente impegnate a vivere così intensamente reale, una sfida che vogliamo porre a tutta la città e per primi ce la siamo posti noi con queste persone, invitandoli a delogare su un testo che è il testo fondativo di tutto il pensiero di Giussani che è il senso religioso. Senso religioso ci tengo a sfatare subito che non è un tema che riguarda la religione, ma per senso religioso Don Giussani intende quelle domande costitutive dell'uomo, cioè di verità, di felicità, di bellezza. E su questo abbiamo invitato i nostri relatori a confrontarsi e a dirci come per loro questo nella loro vita si esprime. Il progetto, patrocinato dal Comune di Pesaro e dall'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Pesaro Urbino, si declinerà in una tre giorni di incontri con professionisti e culture diverse che saranno accompagnati anche da esposizioni dedicate. Fra questi ospiti ne abbiamo intercettati quattro perché sono delle personalità che noi leggendo o vedendo quello che facevano ci sembravano impegnati e quindi interessati a dialogare su questo tema. Ci saranno Mario Cucinella che è un architetto, Franco Arminio, scrittore e paesologo come lui si definisce, e Cadenas che è un fisico spagnolo, vero appositamente dalla Spagna per dialogare con noi e poi abbiamo l'ultimo che è Julián Carron che è stato il successore di Giussani fino a un anno fa la guida della Fraternità del Movimento.